Sono partite oggi le somministrazioni del vaccino Johnson & Johnson negli ambulatori dei medici di famiglia del Molise. A Campobasso, nello studio del dottore Ernesto Lavecchia, segretario regionale FISMU, sono state inaculate le prime dosi. I pazienti sono stati chiamati direttamente dal medico prima della somministrazione, come da prassi. La compilazione del modulo che in sostanza contiene tutte le informazioni del paziente dal punto di vista clinico, una sorta di anamnesi per l'idoneità al vaccino monodose. Penso che praticamente le dosi siano ancora scarse. Allora, ecco, mi fa capire come si è organizzato lei per quanto riguarda intanto quante dosi ha e poi la scelta dei pazienti. Insomma, come si è organizzato? Allora, di dosi io attualmente ho 10 dosi, cioè nel senso che ho due flaconcini da 5 dosi l'una, quindi alla fine potrò vaccinare e inoculare 10 vaccini. Ho praticamente fatto l'elenco dei miei pazienti da 55 anni in su e poi l'ho dovuto confrontare all'interno della piattaforma per vedere quelli che non erano vaccinati. Vi dico, un lavoro certosino abbastanza stressante e soprattutto nell'attività che continuiamo a svolgere quotidianamente ai nostri ambulatori, togliere tutto questo spazio è cosa semplice. La soddisfazione di vaccinare i propri pazienti ci sta tutta perché è chiaro che il rapporto è fiduciario, conosci i pazienti, quindi diciamo che anche i rischi sono limitati. Ecco, però molti suoi colleghi non hanno accettato, non hanno accolto questa proposta, non siete in tantissimi a somministrare i vaccini? Molti colleghi hanno deciso di farlo nelle strutture pubbliche, attualmente ancora non sono state definite né individuate queste strutture, per cui è chiaro che la classe medica si trova un attimino sbandata nell'organizzazione di queste vaccinazioni. Parliamo di questo vaccino, a chi è riservato e le caratteristiche? Sì, è praticamente un vaccino con un RNA, ha una destinazione per i pazienti superiori a 55 anni al momento e che non abbiano patologie, questo è quello che stiamo facendo in questo momento, ma anche se poi non siamo i soli a far usare questo vaccino, ma lo utilizzano anche le hub vaccinali. Ricordiamo che Johnson & Johnson è monodose. Sì, sì, questo è monodose, da quello che ci arriva dalla letteratura la copertura dovrebbe essere circa di 10 mesi, poi valuteremo, qua è work in progress. Si sente più sicuro a farsi vaccinare dal suo medico? Penso proprio di sì, perché comunque oltre che lo conosco è stato bravissimo veramente quando mi ha fatto l'iniezione, non ho sentito assolutamente nulla, complimenti al mio dottore, sono rimasto contento di come è andato. Lei si è fatto somministrare Johnson & Johnson, quindi monodose, e quanti anni ha? 55, viene più sicuro, più tranquillo, più rilassato, ma è meglio di sicuro, sì. Si sente più tranquillo dopo aver fatto il vaccino, insomma? Sì, sicuro, sì. Dopo un'attesa di 15 minuti circa, i pazienti lasciano lo studio soddisfatti del fatto che con una sola dose hanno concluso l'intero ciclo vaccinale, a differenza degli altri vaccini che prevedono invece il richiamo dopo circa 40 giorni.